Qual è un segno della trascendenza che, più degli altri, è alla portata di tutti? È la telepatia. Perché ogni volta che voi dite, ti stavo pensando, e chiamate, siete chiamati con il pensiero, voi testimoniate una realtà superiore che non è percepibile dai vostri sensi fisici. Qual è un segno della trascendenza che, più degli altri, è alla portata di tutti? È la telepatia. Perché ogni volta che voi dite, ti stavo pensando, e chiamate, siete chiamati con il pensiero, voi testimoniate una realtà superiore che non è percepibile dai vostri sensi fisici. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.